Il mio nome è Dililì. Una principessa che viene dall'altro lato della Terra. Porta tuo figlio a vedere un capolavoro. Alla scoperta di Parigi! La mia prima giornata a Parigi! È tutto straordinario! Che gioia essere insieme a te sulla tua tricicletta! Una favolosa avventura nei sentimenti umani. I maschi maestri colpiscono di nuovo! Noi scopriremo il mistero dei maschi maestri. Certamente, io conosco tante persone. Signor Poster, che cosa sapete sui rapitori di ragazze? Niente, purtroppo. Potrebbero essere solo chiacchiere. Dicono che il Muller Rouge sia diventato il covo di tutti i maschi maestri. Signor de Toulouse-Lautrec. Anch'io ho dei sospetti, guardate anche voi. Tra circa mezz'ora, rapina alla gioielleria. Parigi belledotta, Parigi corrotta. Dal 24 aprile. Facciamo progressi. Certo, piccola, che sei in gamba. Oramai sei la persona più ricercata dai maschi maestri. Dal regista di Kirikou e Azura Azmar. Non aspettiamo. Dobbiamo liberare quelle povere prigioniere. E cosa fa? La nostra missione è rapire di Lily. Un film per grandi e piccoli. Da adesso abbiamo il dovere di proteggerti. Signore Eiffel! Siamo pronti a tutto, pur di salvarle dalle grinzie dei maschi maestri. Noi libereremo tutte le ragazze! E questo non è che l'inizio. Di Lelia Parigi. Dal 24 aprile al cinema.